E' la giornata di ripresa del campionato di Lega 2, la dodicesima di ritorno, la prima dopo la pausa pasquale e l'All-Star Game e la prima delle quattro gare mancanti al termine della regular season. Di fronte il New Basket, Brindisi e Fulgor, Libertas, Forlì, fanalino di coda della classifica ma non per questo da sottovalutare. Finisce 94-86 dopo un tempo supplementare, la New Basket scende in campo con un roster in piena emergenza, senza l'infortunato Hunter ed il non completamente recuperato Ndoyak che non è neanche nel roster generale. Il quintetto iniziale è composto da Maestrello, Renfro, Borovniak, Callan e Formenti. Forlì, con tutti gli uomini più importanti a disposizione, inizia con Aff, Lex, Brindisi, Poletti, Coleman, Borsato e Roderick. Partita bruttina con un finale al Cardio Palma. Si parte con una fase di studio prolungato e le squadre che a metà tempo sono finite sul pareggio già due volte, 2-2 e 4-4. Poi Roderick con una tripla e libero aggiuntivo, più un altro canestro replicato da Callan, Borovniak ed una tripla di Maestrello, piazzano il 12-12. Brindisi si arena sugli errori e subisce un parziale di 0-5 per il 12-17. Nell'ultimo minuto Campani dalla lunetta allunga più 7-12-19 e sulla sirena due liberi di Renfro chiudono il quarto 14-19. Nella seconda frazione Casoli riporta gli ospiti più 7 con il canestro del 14-21. Poi Brindisi, grazie ad un ispirato Renfro autore di due triple, pareggia 22-22 e sorpassa con Callan e ancora Renfro 26-22. Poletti e Natali con una tripla regalano a Forlì il nuovo vantaggio 26-27. Si gioca punto a punto con tanti errori fino al nuovo parziale a favore di Forlì 28-33 che continua a macinare punti fino al più 6-31-37 dopo una tripla di giuri. Nel finale di quarto Brindisi sbaglia tanto e Forlì approfitta per un ulteriore parziale di 5-8 che porta le squadre a riposo lungo 36-45. A rientro sul parchè Brindisi accorcia con una tripla di formenti 39-45 ma poi subisce un parziale di 9-13 ed è sotto di 10-48-58. I bancazzurri stringono i denti e recuperano fino almeno 2-60-62. Poi la New Basket mette sotto assedio il canestro avversario ma il punteggio resta così fino al termine del tempino. Nell'ultimo quarto i padroni di casa effettuano un pressing asfissiante a tutto campo. Renfro che chiuderà la partita con 40 punti nel tabellino personale prende la responsabilità e trascina i suoi fino almeno 1-70-71 a 4 minuti dal termine. Errori al tiro permettono ancora a Forlì di essere sopra più 4-70-74. Sul 70-76 di Poletti Giuri mette la tripla del 73-76 che Callan perfeziona con un'altra tripla col pareggio 76-76. Morovina che caso li segnano ancora per il pareggio 78-78. Mancano solo 24 secondi al termine della gara ed il 79-79 chiude l'ostilità sul pareggio per un tempo supplementare che dovrà essere giocato. Durante il supplementare Brindisi trova ancora la grandezza delle triple di Renfro e Maestrello. Forlì sbaglia tanto e la gara si chiude dopo i 5 minuti del primo supplementare 94-86.